Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. C'è la politica, saranno i 400 iscritti al PD Terramano a scegliere quale candidato a sindaco per il capoluogo appoggiare tra Gianguido D'Alberto e Giovanni Cavallari. Fallito anche l'ultimo tentativo di unificare il centro-sinistra, il Partito Democratico gioca la carta del referendum, il servizio di Alfredo Primante. Penso che proprio questa è la ricetta vincente, mettere in campo la generosità, cercare di prestare un aiuto il più possibile affinché si possa fare la sintesi e si possa allargare la base. A scegliere tra Cavallari e D'Alberto saranno gli iscritti al Partito Democratico. Così il PD ha deciso di uscire dall'angolo annunciando la scelta strategica alla ricerca dell'unità del centro-sinistra, un'equazione praticamente impossibile per le prossime comunali di Terramo. I tentativi di mediazione sono andati avanti fino all'ultimo e fino all'ultimo il partito ha atteso un segnale da parte di Cavallari che riaprisse, sebbene in extremis, l'ipotesi delle primarie. Ma dal candidato sindaco di Bellateramo non c'è stato il cenno voluto e così i democratici hanno deciso di rinviare la scelta su chi sostenere ad un referendum tra gli iscritti. Sono circa 400 i tesserati del Partito Democratico e la consultazione dovrebbe essere organizzata in tempi molto rapidi entro domenica. Quello che si vuole evitare è un'ulteriore spaccatura all'interno del centro-sinistra già segnato dalle divisioni. Speravo che ci fosse buonsenso anche se il tempo non è scaduto da parte anche degli altri, diciamo che qualcuno l'ha messo in campo prima, qualcun altro dopo e si è arrivati al fatto che praticamente tutti e due sono all'angolo come dei pugili che hanno voglia di combattere ma che di fatto sono dei pugili soli. Quindi di conseguenza va necessariamente trovata la sintesi e il fatto di fare delle primarie che sono poi mini consultazioni all'interno dei tesserati e quindi speriamo che possa far riflettere l'altro pezzo. E ora la cronaca ai Carabinieri del Nasti Pescara agli ordini del Maggiore Domenico Candelli nel corso di controlli eseguiti in 16 ristoranti etnici gestiti da cittadini extracomunitari hanno verificato i requisiti igienico-sanitari dei locali sospendendo l'attività di due imprese alimentari con il sequestro di 380 kg di alimenti e segnalato 12 persone all'autorità sanitaria e amministrativa elevando sanzioni per violazioni per 18 mila euro. Il servizio di Paolo Renzetti Due imprese alimentari sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività 380 kg di alimenti sequestrati, 12 persone segnalate all'autorità sanitaria e amministrativa e violazioni amministrative per 18 mila euro e il bilancio dei controlli che i Carabinieri del NAS hanno eseguito nel settore della ristorazione etnica di tutto l'Abruzzo 16 nel complesso, le attività ispezionate, i controlli dei militari del NAS di Pescara gli ordini del Maggiore Domenico Candelli hanno riguardato la commercializzazione di prodotti alimentari in attività gestite da cittadini extracomunitari Sono controlli che facciamo con frequenza proprio perché si rivolgono all'utenza sempre più in crescita i controlli anche in questa ultima campagna di attività ispettive hanno riguardato 4 punti cardinali innanzitutto il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e dei luoghi dove vengono preparati gli alimenti che è un po' il nostro ABC poi il modo di sanificazione e preparazione di alimenti ittrici crudi o praticamente crudi che è un aspetto particolarmente delicato poi ovviamente tutte le procedure di rintracciabilità degli alimenti e delle materie prime utilizzate e poi, insomma un aspetto non meno importante, le informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore come appunto gli allergeni abbiamo ripassato a setaccio anche attività che avevamo già controllato e che avevamo trovato in carenze o in gravi carenze, insomma che avevano anche comportato dei provvedimenti sospensivi il dato positivo che si può trarre a margine di questa serie di controlli anche di questi sequestri e provvedimenti anche sanzionatori è che molte di quelle attività che erano in difetto nelle precedenti attività ispettive in queste occasioni si sono ritrovati in condizioni sicuramente migliorate o comunque con lievi carenze e questo insomma ci incoraggia anche a dare un senso alla nostra attività quotidiana ispettiva perché produce anche una forma di miglioramento anche dello standard e nonostante tutto però ecco un paio di provvedimenti sospensivi uno in un ristorante della provincia dell'Aquila e uno in un ristorante della provincia di Richieti sono scattati per gravi carenze igienico-sanitarie in 11 lavoravano in nero in un nightclub a sua volta privo delle necessarie autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività di pubblico intrattenimento e non iscritto alla Camera di Commercio lo hanno scoperto i carabinieri della sede dell'Ispettorato di Richieti in un accesso ispettivo nella scorsa settimana ne è conseguita la temporanea chiusura dell'attività prevista dalla legge quando il numero degli irregolari supera la soglia del 20% della forza lavoro e la segnalazione all'autorità giudiziaria del titolare del night gli accessi ispettivi dei carabinieri tra Ispettorato di Richieti e di Pescara sono stati però nel complesso 3 nel giro di pochi giorni tra San Vito Chietino e San Giovanni Teatino dopo la rimozione dei massi sulla carreggiata della Provinciale 42 stamani la provincia ha fatto brillare la parete di versante dove c'erano ancora altri massi pericolanti è stata una delle fasi dell'intervento di messa in sicurezza del tratto della Provinciale all'interno del comune di Montori Alvomano tra Villa Vallucci e Santa Lucia il 6 marzo scorso una frana di vaste proporzioni con massi ciclopici ha invaso la carreggiata costringendo i residenti delle frazioni interessate ad un percorso alternativo piuttosto lungo dalla Stata dell'80 fino a San Giorgio di Crognaleto per poi riscendere verso Altavilla al finanziamento di 200 mila euro della regione Abruzzo la provincia ha aggiunto altre 150 mila euro per un intervento che prevede l'installazione di reti e paratie e il ripristino dell'assetto stradale Il giudice del Tribunale di Lanciano Marina Valente ha decretato il non luogo a procedere chiudendo così il procedimento penale a carico di un funzionario tecnico di Terna accusato di falsità ideologica i fatti contestati risalgono all'8 luglio del 2015 in località Santonofrio di Lanciano nell'ambito delle procedure di edificazione dell'elettrodotto Villanova-Gissi non luogo a procedere così il giudice del Tribunale di Lanciano Marina Valente ha chiuso il procedimento penale a carico di un funzionario tecnico di Terna accusato di falsità ideologica i fatti contestati risalgono all'8 luglio 2015 in località Santonofrio di Lanciano tutto ruotava attorno alla presenza dichiarata o meno della titolare del terreno per cui gli addetti di Terna avrebbero dovuto eseguire l'emissione in possesso Franca con la nera o cera la si vede chiaramente in video ma non è bastato io sono con la nero Franca e voi per favore andate a vedere nel pomeriggio ci furono tafferugli intervennero gli agenti del commissariato di polizia di Lanciano a sospendere l'immissione nel terreno nella calca con la nero finì rovinosamente a terra in sostanza il giudice nonostante la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM Serena Rossi ha ritenuto valido il verbale del funzionario che agiva per conto di Terna la SPA che in seguito costruì l'elettrodotto Villanova Gissi resta l'amarezza nelle parole di Franca Colanero la giustizia dice non è uguale per tutti un uomo di 80 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale Spirito Santo di Pescara per le ferite riportate nella serata di ieri a Sportore mentre come riferito dall'uomo ai sanitari era intento a lavori agricoli sul suo trattore l'anziano dopo essere scivolato e caduto a terra è stato investito dal mezzo rimasto senza controllo soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito in ospedale e di tre feriti senza apparenti gravi conseguenze il bilancio del tamponamento avvenuto lungo la Fondovalle Sangro che ha distrutto le due auto coinvolte l'incidente stradale si è verificato all'altezza della stazione di servizio Rescafè attorno alle 5.30 del mattino sul posto sono intervenuti i carabinieri di Atessa per i rilievi a loro spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente la Ford C-Max guidata da una donna di 40 anni di altino che trasportava lato passeggero la madre di 58 anni è stata tamponata da una Peugeot 3008 condotta da un uomo di Rocca Scalegna di 27 anni entrambi viaggiavano in direzione Montimare quando è avvenuto l'incidente le due donne sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Chieti il giovane in quello di Lanciano per estrarre la passeggera della Ford C-Max dalle lamiere accartocciate sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Casoli rapina con pestaggio ieri sera da Tessa sempre in provincia di Chieti in un'agenzia di pratiche automobilistiche dove tre uomini a viso coperto hanno fatto irruzione armati di un cacciavite di una catena chiedendo l'incasso il titolare ha provato a reagire dicendo di avere poco in cassa ma i tre rapinatori dopo avere sottratto 500 euro lo hanno picchiato fuggendo subito dopo secondo le indagini il mezzo usato per la fuga sarebbe un furgoncino bianco l'uomo aggredito è riuscito ad uscire in strada e dare l'allarme subito dopo è stato condotto in ospedale dove è stato medicato per contusioni varie finora indagini e posti di blocco non hanno dato esito proseguiamo il nostro Tg botta e risposta l'Aquila Avezzano sull'ipotesi di installazione del centro logistico della protezione civile nazionale nell'interporto di Avezzano nella Marsica il progetto viene ritenuto strategico ma dal capoluogo di regione si reclama più attenzione per il rilancio dell'aeroporto di Preturo come hub a servizio del polo logistico vediamo il servizio lungo l'asse Roma-Avezzano si muove l'iter per trasferire all'interno del centro smistamento merci Marsicano il polo logistico della protezione civile la scelta della struttura sappiamo non sia casuale non solo perché Bari centro naturale per evidenti requisiti geografici tra la costa adriatica e quella terrenica ma anche in virtù dell'accessibilità autostradale facilmente raggiungibile dalle principali arterie nazionali se riuscisse ad essere il punto logistico della protezione civile nazionale potete capire qual è l'importanza anche della terra nostra avrebbe come uno sviluppo importantissimo dovuto soprattutto al fatto che avremmo tutto il centro sud che farebbe riferimento al nostro interporto e quindi è un fatto positivissimo per tutto il territorio però ripeto se vi sono le diatribe è possibile che la protezione civile tra le due posizioni potrebbe sempre dire arrivate e ce ne prende una terza la costituzione del polo nazionale logistico scatenerebbe una serie di misure a catena innanzitutto si renderebbe necessario concentrare una sorta di sinergia operativa con l'unico aeroporto a ridosso del polo in questo caso quello di Preturo e proprio il ruolo o non ruolo giocato dall'aeroporto dei parchi ha fatto montare una polemica che non ha risparmiato le istituzioni politiche il vice sindaco dell'Aquila ha parlato pubblicamente di un'improvvida scelta dal merito poco chiaro e dal metodo assolutamente dispotico che va ad indebolire le aree interne Pietrucci poi ha ribadito il concetto non posso accettare che all'aeroporto di Preturo venga riservata una vaga e approssimativa rassicurazione io non ho mai condiviso il campanilismo sfrenato perché è un errore di fondo noi stiamo facendo dei movimenti e stiamo ponendo in esso tutte le azioni utili per far sì che la protezione civile si installi qui nel centro smistamento merci è un vantaggio per tutti non è soltanto per la Marsica è un vantaggio per tutta la provincia dell'Aquila e quindi questo fatto questa diatriba inutile tra l'Aquila e l'Avezzano è ora di terminarla è un project financing da 20 milioni di euro quello che servirà a costruire il nuovo cimitero di Chieti in località Santa Filomena servirà a risolvere i problemi legati al sovraffollamento del cimitero di Sant'Anna a disposizione 30.000 loculi il servizio di Gino Di Tizio il cimitero sarà intitolato proprio Parco della Memoria è una struttura ex novo che avrà la sua collocazione in prossimità di Strada Ombrosa che è una strada che è una parallela di Via Liri che si trova proprio dietro il quartiere Santa Filomena è stato un lavoro che ci ha tenuto impegnati per diversi anni perché è stata fatta diciamo una variazione urbanistica senza abbiamo ricollocato il cimitero dove era la sua collocazione originaria nel piano regolatore di Chieti l'emergenza delle tumulazioni che si assistono e ci mettono in difficoltà sulla città per quanto riguarda la tumulazione quotidiana dei decessi ha fatto fare questa scelta questa scelta di fatto dà la possibilità di avere nuovi 30.000 posti a disposizione per i prossimi anni con un project che verrà gestito per 30 anni e con una qualità di lavoro che ha fatto sì che questo progetto si classifizzasse primo e sarà un cimitero che andrà a curare molto l'estetica e il rispetto per il defunto ci sarà una nuova chiesa quindi il quartiere Santa Filomena avrà una propria chiesa che è collocata in prossimità all'interno del cimitero come la chiesa di Sant'Anna però avrà una chiesa un simbolo che caratterizzerà quel luogo ci sarà una sala del cordoglio cioè quindi quello che è diventato per molti una soggezione anche una questione pure di scomoda di andare a prestare le proprie condoglianze a un defunto presso l'ospedale o addirittura presso l'abitazione verrà superata da un sistema di appunto di cordoglio che viene fatto già in parecchi paesi d'Europa e anglosassoni in una sala del cordoglio dove sarà possibile fare le ossegue al proprio defunto siamo arrivati al dunque l'impresa è pronta per partire ha formalizzato sta definendo ha formalizzato le acquisizioni delle aree che gli permettono oggi di presentare l'esecutivo ed andare all'inizio lavoro nuovo senso civico definisce gravissimi i rilievi mossi dall'ARPA ma l'operato dei funzionari coinvolti nell'iter autorizzativo del sansificio vecere di Treglio i rilievi saranno oggetto di valutazione da parte dei legali dell'associazione al fine di evitare le azioni giudiziarie più opportune alla tutela degli interessi della comunità anche sul piano civile non sono stati stabiliti correttamente valori limite da prescrivere alle emissioni prodotte dall'impianto termico alimentato a biomassa e dall'impianto di essiccazione a dirlo e l'ARPA ma agenzia regionale per la tutela dell'ambiente nelle Marche è incaricata dal Tarabruzzese di verificare il lavoro dei funzionari pubblici di provincia di Chieti e regione Abruzzo nell'iter autorizzatorio dei sansifici vecere dura il commento di nuovo senso civico quello che è accaduto a Treglio è gravissimo dice il presidente Alessandro Lanci basta con prassi per le quali chi decide si trinciera dietro una scrivania facendo carta straccia di diritti fondamentali come quello alla salute è un modus operandi che va avanti da anni e che noi stiamo denunciando oramai in tutti i procedimenti che abbiamo seguito in questi ultimi mesi e addirittura negli ultimi dieci anni probabilmente spesso facciamo fatica a distinguere appunto nelle conferenze di servizi così come negli incontri tecnici qual è la parte diciamo pubblica che dovrebbe difendere gli interessi di tutti quindi essere super partes e quali sono i funzionali tecnici delle aziende anzi addirittura spesso i tecnici delle aziende sono più prudenti dei funzionari pubblici è una situazione che non può più andare avanti e noi pensiamo che questa decisione del TAR e questo giudizio dell'Arp Marche è uno strumento utile per cercare di capire anche in questi ultimi dieci anni quanti impianti sono stati autorizzati magari con lo stesso modus e questo significa che ci sono popolazioni che stanno subendo l'inquinamento di impianti che magari non devono essere autorizzati o che magari potevano essere autorizzati con delle prescrizioni quindi adesso secondo noi c'è da capire quello che è successo negli ultimi anni e secondo noi anche c'è da procedere nei confronti dei dirigenti pubblici e dei funzionari che non hanno servito bene appunto il pubblico presentato questa mattina a Pescara sotto costa il salone della nautica giunto alla quinta edizione che si aprirà il prossimo 28 aprile presso il porto turistico Marina di Pescara verrà proposta una variegata esposizione di imbarcazioni provenienti da tutta Italia nuovo ingresso della Lombardia ed un ricco programma convegnistico in collaborazione con gli ordini dei giornalisti degli architetti e degli ingegneri vediamo il servizio Torna l'appuntamento con sotto costa quinta edizione esalce un appuntamento di grande rilevanza per il Marina di Pescara Noi riteniamo che questo appuntamento vada confermato e sviluppato anche nel futuro siamo arrivati alla quinta edizione sarebbe un peccato che noi gestissimo un porto turistico tra i più importanti d'Italia e il più grande della costa adriatica e non dedicarsi dello spazio al settore della nautica che è poi il settore che in qualche maniera fa vivere il porto turistico Nell'ambito di questa manifestazione Asso Nautica Francesco Di Filippo organizzerà anche delle uscite in mare una bella esperienza? Sì è un modo per avvicinare le persone alla nautica di porto spesso intesa come una passione per pochi in realtà la nautica di porto è una passione che va vissuta sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista ludico sia dal punto di vista ricreativo anche culturale può essere praticata da chiunque per cui l'uscite gratuite che noi con i nostri associati facciamo in modo che questo possa avvenire lo facciamo proprio per far conoscere anche il mare non solo dalla spiaggia ma anche da questo punto di vista c'è anche un progetto scuola lavoro dei ragazzi di Marzio Michetti di Pescara tu sei uno studente tra l'altro oggi a questa conferenza stampa con tanto di telecamera qual è l'esperienza che state facendo? Sì è sicuramente un'esperienza formativa per noi ragazzi della Di Marzio Michetti che facciamo ogni anno e in quest'anno abbiamo deciso di fare dei video reportage appunto per Sottocosta cosa farete in particolare in questi giorni della manifestazione? Faremo alcuni ragazzi verranno impegnati nell'aiuto dei vari stand eccetera e altri come me faremo riprese video fotografie che poi verranno pubblicate per l'evento ed ora apriamo la pagina dello sport doppia seduta odierna per il Pescara da valutare le condizioni di Falco mentre sabato prossimo mancherà lo squalificato Coda che quasi certamente sarà rimpiazzato da Fornasier intanto la vittoria sullo Spezia ha dato ossigeno al Delfino che può approcciare con un pizzico più di serenità al primo dei quattro scontri diretti quello di sabato in casa della Ternana dell'ex tecnico Gigi Decagno Ternana penultima in classifica ma in piena rimonta salvezza il servizio un successo di vitale importanza per il Pescara il 3 a 2 ai danni dello Spezia interrompe un digiuno di vittorie che si protraeva da 11 partite effetti benefici per il morale e per la classifica che dopo le gare del sabato si era fatta molto brutta per 24 ore il Pescara è stato in zona retrocessione ma con i tre punti di domenica il Delfino in un battito di ciglia ha ripristinato le distanze da Ascoli Cesena e Ternana ne è scavalcato Novara Entella ed Avellino è sembrato un pomeriggio sin troppo agevole fino a metà ripresa poi la punizione di De Francesco ha fatto riemergere le paure e le insicurezze di una squadra poco abituata alle vittorie e alla gestione del risultato tanto da incassare subito dopo il 3 a 2 eravamo un po' stanchi a mio parere un po' prendere quel gol lì diciamo che non dovevamo permettere secondo me la punizione perché eravamo un po' stanchi ed eravamo un po' calati dovevamo cercare di mantenere un po' più il gioco noi far girare il palle e far correre loro perché dopo il gol loro hanno cercato di spingere per cercare un po' di recuperarla dovevamo essere più bravi a gestirla perché ripete eravamo un po' stanchi e in quel momento lì dovevamo essere doppiamente bravi nel gestire la palla e far correre loro 5 minuti di blackout che hanno seminato il panico buon per il Delfino che negli ultimi minuti Lopez con una evidente simulazione abbia fermato un'azione nella quale la difesa era stata fatta fuori da una ripartenza e che lo Spezia poteva chiudere con un 2 contro 1 un 3 a 3 incassato in rimonta avrebbe generato danni ingentissimi sulla classifica ma soprattutto sull'autostima del gruppo pericolo scampato e lo stesso Pilon nel dopogara pur avendo apprezzato la prestazione nel complesso della squadra ha enfatizzato questo periodo di blackout perché sarà questo uno dei principali aspetti da curare in vista dei prossimi 4 scontri diretti nell'ordine Ternana Cesena Novara e Ascoli un monito da tenere ben presente perché il campionato non è affatto finito la salvezza non è affatto conquistata un risultato pieno con lo Spezia doveva rappresentare e questo è un trampolino di lancio per questa fase finale sabato le liberati la prima di queste battaglie contro la Ternana dell'ex Decagno il quale si è insediato da 11 partite nelle quali ha raccolto 15 punti ma il lavoro del neo allenatore sta uscendo fuori in questo momento 10 punti nelle ultime 4 partite le ferre rossoverdi sembravano condannate alla retrocessione ed invece ora sono più vive che mai Ternana ancora penultima ma in piena rimonta peggior difesa del campionato l'unica da aver fatto peggio del Pescara con 65 reti subite ma anche macchina da gol 58 centri all'attivo con Montalto a farla da padrone 20 le sue reti così Decagno dopo il derby vinto in maniera esaltante in rimonta a Perugia non abbiamo fatto ancora tutto quello che va fatto perché mancano ancora delle partite noi siamo oggi saremo ancora retrocessi però contiamo su quello che facciamo durante la settimana e contiamo su quelle che sono le nostre forze il nostro impegno quotidiano e sappiamo che possiamo raggiungere questo questo sogno ce la metteremo tutta fino alla fine e domenica torna in campo il Taramo parliamo dunque di Serie C una gara che sa di spareggio contro il Fano per evitare gli ultimi due posti in classifica esodo da parte dei sostenitori bianco-rossi che potranno acquistare il tagliando per la gara del Mancini senza la tessera del tifoso partita senza ritorno anche per il capitano del diavolo Ivan Speranza che torna dopo il turno di scuolifica il servizio di Agna Cantagalli Ivane non è più tempo di girarci tanto intorno a Fano domenica bisogna vincere sì una partita per noi è fondamentale bisogna girarci più intorno dobbiamo fare la partita perfetta per noi e cercare di portarla a casa a tutti i costi perché per noi è una finale quindi dobbiamo farcela i risultati di domenica scorsa sono andati più o meno bene non benissimo te l'aspettavi? comunque tra quattro squadri due sono andati bene due sono andati male magari si aspettava il contrario forse Bassano e la Tristina contro il Fanel Gubbio ma invece è successo il contrario però ripeto non dobbiamo guardare gli altri dobbiamo prima guardare in casa nostra e sappiamo che domenica è dura e dobbiamo andare a fare lì una lotta per portare a casa il risultato come li vedi i tuoi compagni prima di quella che al momento è la partita più importante della Storzioni? la stiamo preparando già siccome siamo stati fermi quindi ne abbiamo avuto una settimana in più per prepararla questo è poco ma sicuro non sbagliare l'atteggiamento mentale e l'approccio della partita perché per noi è fondamentale perché sappiamo ripeto che lì è un campo ostico una squadra ostica in cui un campo piccolo è difficile giocare quindi sappiamo giochi come affrontarli ripeto e non dobbiamo sbagliare questo quanto hai sofferto in tribuna a San Medet tantissimo purtroppo non sono abituato quindi un'ansia incredibile purtroppo è stata una partita storta perché comunque eravamo partiti bene poi abbiamo preso il gol comunque dopo un po' quando magari non meritavamo nel senso però poi il secondo gol in contropiede ci ha spianato diciamo spianato la strada a loro però comunque si poteva fare meglio di sicuro però questa è stata un po' l'annata nostra però rimbocchiamoci le maniche e andiamo a Fano per fare questa battaglia ci dovrebbe essere una vera e propria mobilitazione da parte dei tifosi sarà un aiuto in più per voi sicuramente ma loro sono sempre stati in ogni occasione lo sanno che comunque per noi è importante il loro appoggio quindi a noi ci fa solo che piacere quindi speriamo che non li deludiamo e di portare il risultato a casa partita quella di Fano che sarà diretta da Alessandro Prontera della sezione di Bologna e ora la serie D ennesimo risultato positivo per il Pineto che sta compiendo una rimonta pazzesca che ha portato i Biancazzurri nella zona playoff un andamento frutto della continuità anche nei momenti più complicati come ammette anche il direttore generale Roberto Giammarino Jacopo Forcella Roberto Giammarino una rimonta del Pineto che ha del clamoroso e bellissimo vanno bene questi due aggettivi sì sogno io lo chiamo sogno perché questa squadra ha avuto qualche difficoltà però ha il merito di non aver mai mollato di averci sempre creduto noi addetti ai lavori sapevamo che era un gruppo forte che se la poteva giocare fino alla fine dopo i nero stellati l'ha detto anche il mist ho chiesto alla squadra di darmi almeno la forza di dire lottiamo fino alla fine e ci stanno riuscendo perché non abbiamo ancora fatto nulla perché il campionato mancano due partite difficili i domenici abbiamo la Vezzano e poi andiamo a Recanati e quindi noi dobbiamo stare concentrati sul pezzo perché sono convinto che questi ragazzi meritano di vivere questo sogno che più è lungo e più sarà bello glielo ho già detto tutte le settimane è la vittoria della continuità del fatto di non aver mai cambiato e aver creduto sempre su un gruppo e su un allenatore ma io credo che cambiare un allenatore sia sempre una sconfitta e quindi a me non piace perdere ho sempre sostenuto alla società che gli allenatori si cambiano quando la squadra non segue più l'allenatore io non ho mai visto la mia squadra non seguire Daniela Malo nei momenti di difficoltà vi ricordo che quando fu messo in discussione abbiamo fatto 15 risultati utili consecutivi e quindi credo che questa sia la più grande soddisfazione proprio anche agli occhi di chi ci ha seguito perché non sempre cambiare un allenatore porta dei risultati importanti e sono felice per Daniele perché è un uomo vero e sono felice per la società perché sta vivendo come viviamo noi un sogno perché il secondo anno di Serie D non è facile arrivare a questi traguardi a questi 53 punti ma io ripeto noi non ci vorremmo svegliare fino a quando non finisce il campionato quindi la forza nostra è quella di averci sempre creduto e adesso dobbiamo essere bravi a non disperdere la concentrazione che abbiamo era questo l'ultimo servizio del TG6 vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione Pro Teramo a partire dalle ore 21 condotta da Jacopo Forcella si parlerà chiaramente di Serie C e con particolare attenzione del Teramo e poi vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con il TG6 e con le edizioni delle ore 19 e delle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti